L'alunno Samir Hattab. Samir Mohamed Hattab. Non ho capito, scusi. Si chiama così, Samir Mohamed Hattab. Eh, non me lo faccia cambiare da capo, però. Scriva Samir M punto, forza. No, non si chiama M punto, si chiama Mohamed. Eh, vabbè, ma che cambia? Sempre quello il ragazzino, no? Mohamed più, Mohamed meno. Scusi, ma lei che vuole? Chi le ha chiesto di parlare? Io vengo a dire a lei come si chiama? Ma facevo così, per semplificare. Semplifichi il suo di nome, non quello di mio figlio, che pure è il nome del profeta. D'accordo, d'accordo, signora, non c'è nessun problema. Come devo scrivere? Samir Mohamed? Samir Mohamed Ali Saeed Salim Abdullah Hattab.